Hai un'aria convinta, Basim. Che cosa hai scoperto? Arib è innocente. Il governatore meno. Ha stretto un patto con l'ordine e ha spinto i cugini a togliere protezione ad Alamut. Maledizione. È quello che temevamo. Siamo diventati vulnerabili. Sì. In cambio, Abu Abdallah ha rinunciato alle sue mire al trono. Cederà la corona per appagare l'ordine, guidato da sua madre. Kabiha è la testa del serpente. Dov'è ora? È fuggita a palazzo. Forse possiamo ancora salvare Alamut. Datemi la piuma, maestra. Kabiha avrà la giusta punizione. E sarò io a infliggerla. Cosa? Che state dicendo? Che ci vuole una mano più esperta. L'ultima volta che sei entrato in un palazzo, è scoppiato un putiferio. A dir poco. Non sono stato affidabile finora. Maestra, ho il diritto... Quale diritto? Di uccidere? No, io non intendevo. Chiunque colpisca, colpisce per tutti gli altri. O il tuo ego esige il grande onore? Non è l'ego, maestra. È il dovere. Ho giurato di cambiare vita. Di percorrere la via delle ombre per servire la luce. Vorrei farlo. Kabiha è più pericolosa dei suoi tirapiedi. Sì, rapido e spietato. Non esitare. Sangue da una rapa. Chi è lei per negarti Kabiha o per dirti quando colpire? La mia maestra è guida. Senza la quale non sarei che un cadavere nelle strade di Ambar. Ma mi spia adesso. Come sempre. E così soffochi le tue domande. Abbatti i suoi nemici e la servi senza fiatare. E vivi perseguitato da un djinn nella topaia da cui speravi di fuggire. Sai dove trovarmi quando avrai compiuto il tuo dovere. Tutti quei morti e dispersi. Ogni traccia di sangue conduce a te. Al-Bahamut. L'ultima maschera da strappare. Hai aizzato Wasif contro i ribelli. Hai scatenato Al-Hul e hai svenduto tuo figlio per Al-Alanut. Ma è tutto per cosa? Per qualche stupido manufatto di un'era dimenticata? Non importa. Verrò a trovarti a palazzo. E taglierò la tua testa di serpente. Uno si è dannato per nascondere questo posto. Quanti anni trascorsi a cercare. Tra antichi tomi e tombe perdute. A studiare il passato. A inseguire miti e leggende. Quando mi bastava aspettare... Che tu... Venissi da me. Il nobile discendente è giunto. Eppure egli non conosce se stesso. Hai mai meditato sulla tua natura? Tu... Che vedi oltre. Tu che conosci. Persino mio figlio ha chiesto che cosa sei. Dopo averti visto risvegliare il dono degli antichi. Che cosa sono? Più di un semplice uomo. Basta misteri. Dimmi la verità. E se invece ti mostrassi tutto? Vieni con me ad Alamut. Sotto le mura del suo tempio. Giace tutta la conoscenza che ti spetta di diritto. I tuoi cosiddetti fratelli preferirebbero morire... Che vederti reclamarla. Ma fatti coraggio Basim. Ti spianeremo la strada. E ti libereremo. No! Con quali parole ti ha avvelenato? Ha detto che sono più di un semplice uomo. Che cosa intendeva Roshanna? Che cosa c'è sotto il tempio? Quello è un luogo proibito. Non c'è niente per te laggiù. Io vi ho parlato degli incubi. Del Jin. Una ferita da Lenire. Una debolezza. Ci ho provato e riprovato. Ma voi me l'avete impedito. Ho dovuto combattere da solo. Non eri solo. Tu non sei il primo che cammina tra le ombre ferito, Basim. Raccogli i tuoi pezzi e rimettili insieme. Riversa il tuo dolore nella confraternita. Purificati dal veleno delle sue menzogne. E torna con noi a casa. Come un semplice uomo. Ma come nostro fratello. Oppure è troppo poco per te. E se lo fosse... Segui la via che lei ti ha indicato. E sarò io stessa a ucciderti. La via che lei ti ha indicato.